Sì, ripartiamo dal segno del sagittario, una giornata bella, dinamica, come piace a voi, in cui sarete in perenne movimento. Ecco, e quando possiamo dire ad un sagittario che può muoversi liberamente, lo rendiamo felice. Ecco che allora questa è una giornata che vi vedrà davvero con il sorriso sulle labbra e le comunicazioni saranno estremamente importanti in questo giorno, ma anche il vostro tempo libero, i vostri hobby, le cose che vi divertono, le cose che vi fa piacere fare, ecco, avranno un'importanza fondamentale in questa giornata perché avranno la forza proprio di appagarvi. E poi non trascurate le amicizie, un caffè con un amico potrebbe riservare delle belle emozioni, o con un'amica chiaramente. Andiamo al segno delle caratteristiche.